Bene, buongiorno e ben ritrovati. Allora, oggi concludiamo la settimana fermandoci, riposando un po' su questo concetto che abbiamo introdotto ieri, cioè il concetto di vettore, array in inglese, che è la struttura dati più importante nella programmazione, soprattutto tecnico-scientifica. Abbiamo detto ieri che in pratica il vettore è una struttura dati un po' quasi apparente, lo è in effetti, cioè non esiste proprio in quanto tale come struttura dati, ma in realtà è una specie di mascheramento della tecnologia dei puntatori. Abbiamo visto ieri come si può proprio passare da una gestione dei dati basata su dare il nome a delle variabili, passando per i puntatori fino al vettore. Ed è comunque una tecnologia imprescindibile nella computazione tecnica. Pensate per esempio a come si potrebbe elaborare un'immagine, dovendo elaborare 10 milioni di pixel, ciascuno con 3 byte, con 3 numeri. Non è pensabile ovviamente nominare 10 milioni o 30 milioni di variabili, ciascuno per ospitare il valore di quella componente di colore di quel pixel. E poi anche se fosse possibile farlo, non ci sarebbe una possibilità di poter fare un ciclo che le esamina tutte, perché ognuno ci avrebbe il suo nome. Abbiamo visto ieri proprio come la tecnologia dei puntatori, mascherata da vettore, ci consente di poter elaborare una quantità anche enorme di variabili allocati in memoria, di dati allocati in memoria, utilizzando dei cicli. Insomma, però il problema grosso di questa tecnologia è che è prona, in qualche maniera, a grossi errori. L'errore su cui ci soffermiamo oggi, ci soffermeremo fra un po', è proprio il più importante errore, il più importante problema che c'è nella programmazione strutturale, programmazione con linguaggi evoluti, che è l'errore da buffer overflow. Linguaggi più evoluti, diciamo così, del C, hanno cercato di mettere il programmatore al sicuro da questo tipo di errore. Sostanzialmente hanno fatto sì che, al posto dell'uso dei puntatori per passare dei dati a delle funzioni, si utilizzasse la tecnologia dei riferimenti, che abbiamo pure introdotto noi. La tecnologia dei riferimenti fa uso sostanzialmente di un puntatore, però quel puntatore è mascherato, non lo si può direttamente accedere, non si può cambiargli il valore, viene automaticamente dereferenziato, qualora si chiami quel parametro, per cui sostanzialmente la tecnologia dei riferimenti si appoggia anch'essa sul concetto di puntatore, però non ti fa vedere il puntatore, non te lo fa lavorare. Per cui, non dandoti accesso al puntatore, limita la possibilità che tu possa fare delle cose sconvenienti. Di nuovo, anche qui, il vettore è un altro modo per fare la stessa cosa. Se fosse ben implementato, come adesso vedremo oggi, sarebbe un modo per non utilizzare i puntatori. Utilizzare il vettore al posto dei puntatori. Allora, ecco, non tutti forse stanno capendo quello che sto dicendo, però spero che dopo magari sia un pochetto più chiaro. Quello che voglio arrivare a dire è questo, che ci sono linguaggi più evoluti del C che non ti fanno sai i puntatori. Al posto dell'utilizzo dei puntatori per puntare grandi quantità di dati, ti fanno utilizzare i vettori. Al posto di passare variabili a funzioni mediante i puntatori, ti fanno sai i riferimenti. Non facendoti vedere cosa sono i puntatori, si cerca di limitare il rischio che tu faccia danno con i puntatori. Il C ignora tutto ciò, ha una filosofia, ecco, questi linguaggi di cui parlavo hanno una filosofia quasi un po' all'europea, no? Cioè, molto welfare, cioè ti impedisco che tu ti faccia male. Però questo comporta delle limitazioni alla libertà, alla potenza anche espressiva in qualche maniera. Certi algoritmi che ti stanno in mente a te non li puoi fare, perché non hai la potenza per poterli fare. La filosofia invece del C è quella americana. Grande potere, grande responsabilità, sta a te fare in modo che non ti fai male. Vediamo un po' adesso, dopo questa introduzione un po' così quasi filosofica, che cosa sono questi vettori, allora? Sono sostanzialmente sequenze di oggetti dello stesso tipo che vengono allocati in maniera contigua in memoria, poi dove dipende dal segmento di memoria. Se il vettore è dichiarato prima del main, va nello spazio dati. Se è dichiarato dentro il main, locale quindi al main, o locale addirittura una funzione, il main in fondo è una funzione, il vettore non sarà allocato in memoria fin quando quella funzione non va in esecuzione, e verrà allocato nello stack, e non nel segmento dati. Questo è importante capirlo perché sta alla base di tanta confusione che si fa anche con i vettori, anche col buffer overflow. Se andate su internet troverete tante cose, insomma, quasi tutte corrette, però dette in maniera molto raffazzonata. Oggi cerchiamo di fare un po' di chiarezza, un po', un po', ma non sarà facile. Seguenza di oggetti, tutti dello stesso tipo, cioè di variabili, sostanzialmente allocate in maniera contigua. E ciascuna hanno tutte lo stesso nome, ma si differenziano in base a un valore di indice. Il nome di tutte queste variabili è sostanzialmente il nome del vettore. Per esempio, qui abbiamo in figura un vettore che si chiama A e che si chiama A, il vettore, e che è composto di sei elementi. Il primo è quello che corrisponde all'indice 0, il secondo è l'indice 1 e così via, fino all'indice 5. Per poter identificare ciascuno di questi, con la notazione vettoriale si fa così. Quindi si scrive il nome del vettore A, in questo esempio, e poi fra parentesi quadre il numero di indice dell'elemento che vogliamo cogliere. Questo elemento, una volta che l'abbiamo colto, lo possiamo o scrivere o leggere. È una normale variabile che sta sulla RAM. Il nome di per sé del vettore, in questa figura A, è il nome del puntatore nascosto. E come tale, se lo andate a dereferenziare, vi andrà a prendere, sto parlando del vettore che è proprio rappresentato in figura, se dereferenziate il nome A, andate a prendere il valore 25.1. Perché sarebbe il valore contenuto nella prima variabile che fa parte di questo vettore, cioè nell'elemento di indice 0. Se invece dereferenziate non A, ma dentro parentesi tonde, A più 1, andate a prendere il valore 34.2. E così via. Questo concetto si chiama aritmetica di puntatore, l'abbiamo introdotto ieri, e in pratica significa questo, che quando che tu aumenti il valore di un puntatore, o diminuisci, il valore di un puntatore di 1, il valore di quel puntatore, che vi ricordo che è una variabile che tiene l'indice dell'indirizzo sulla RAM, non aumenterà proprio di 1 o di meno 1, ma aumenterà di tanto 1 quant'è la dimensione del tipo puntato. in questo caso è un tipo che sarà? È un tipo float, boh, non so, probabilmente è un tipo float in questa figura, e quindi float è su 4 byte, se faccio A più 1 aumenta di 4. Non state a capire niente di quello che sto a dire, forse sì, forse no. Come si definisce il vettore in C, in C++, si fa così, prima si definisce il tipo degli elementi del vettore, poi si dà un nome al vettore e poi, mettetelo attaccato, fra parentesi quadre, quadre la dimensione del vettore. In questo esempio, per esempio, definisco un vettore che si chiama numeri, che sarà un vettore di 10 interi. Fatto questo, il compilatore alloca lo spazio sulla RAM per 10 interi. Ripeto, se lo avete scritto prima del main, questo lavoro viene fatto subito, immediatamente, nel segnamento dati. se lo avete fatto dentro una funzione, non è detto che questo sia fatto, sarà fatto questo allocamento solo se la funzione parte e quando parte. E sarà allocato sullo stack. Questo 10 che vedete qui, ci deve stare proprio scritto, perché il compilatore deve sapere quanto spazio deve allocare. Adesso, ecco, vai. Ho detto una cavolata, ho detto una cavolata? Non ho detto una cavolata, sono 10. Va dall'indice 0 all'indice 9. No, no, sono 10. Lì ci va scritto il numero degli elementi del vettore, non l'indice massimo. Vi ricordo che l'indice parte da 0, sì. La domanda è corretta e mi è servita per fare questa precisazione. Grazie. Il 10. Cioè, la dimensione del vettore, adesso bisogna che mi state a sentire, in C++ è obbligatorio mettercela come un valore costante. Cioè, è illegale dimensionare in C++ la dimensione del vettore con una variabile. Per esempio, io posso scrivere int numeri fra parentesi quadre x ecco, dopo andiamo a litigare, letteralmente. Cioè, dopo comincia a diventare una guerra di religione. In C++ non si può fare. Perché fare questo è una di quelle cose che comincia a metterti sulla brutta strada. in realtà, in realtà, il C++ versione 11, l'ultima che stiamo utilizzando, ammette che si faccia questo nella speranza che tu quella variabile l'abbia istanziata prima, che venga definito quel vettore. che in quel momento ci abbia un valore costante. Addirittura, qui però mi sto spingendo nella temerarità, nelle funzioni e non nello segmento dati, qualche compilatore, per esempio il GCC, ammette che tu ci metti una variabile e non va neanche a vedere se l'hai stanziata prima, ti dice oh, warning, non mi pare che da codice tu questa variabile l'ha istanzi prima e quindi che cosa stai facendo? Ma te lo fa fa. A questo punto quando parte la funzione non si sa quanto spazio stai allocando per quel vettore. Mi segui? Non si sa. E infatti non viene allocato perché non sa quanto è lungo. non lo può allocare, non sa quanto ne deve allocare. Viene allocato un solo elemento che corrisponde all'elemento puntato dal nome poi se tu farei dopo un for per andarlo a riempire questo puntatore andrà a far salire sullo stack l'allocazione della memoria. Cosa però succederà dipende da cosa ci sarà dopo. se le cose che sto dicendo mi sembrano un po' complicatelle è perché lo sono un pochino è perché effettivamente i compilatori cercano di essere smart perché chiaramente però ogni volta che tu fai un passetto per essere più smart stai mettendo a rischio qualche cosa. È un compromesso. È un compromesso. Quindi veramente un compilatore fa una cosa e un compilatore ne fa un'altra. Addirittura lo stesso compilatore in anni diversi cioè versioni diverse dello stesso compilatore si comportava in una maniera e si comporta in un'altra maniera. Per esempio ci sono alcune slide che io quasi quasi le lascio in maniera provocatoria perché qualche anno fa si comportava in una certa maniera il compilatore e lo stesso compilatore lo usate oggi si comporta in maniera diversa dalla slide. Non è la slide che è sbagliata è il compilatore che ha cambiato negli anni il suo modo di compilare. La lascio come dire attenti, avvertenza bisogna sempre per scopi professionali andare a vedere come si comporta il compilatore in quel caso. Dopodiché andrete sui forum su internet a cercare di capire perché fa così e perché fa colà il vostro compilatore. Un altro modo per iniziare è che la lezione di oggi è un po' sporca non so se avete capito cioè non sto a dare concetti proprio puliti perché veramente non sono proprio pulitissimi questi concetti che sto a dire e non riesco a fare più pulizia di questo cioè se la facessi ometterei delle problematiche allora diciamo le cose come stanno stanno in maniera un po' confusa. Cerchiamo di dire le cose non confuse se voi mettete qui un valore costante nella dimensione del vettore non sbagliate mai. quindi cercate di chiarirvi voi prima a me mi serve un vettore per esempio ieri ho fatto un esempio degli studenti che si mettono a sedere a fare una prova io non lo so quanti sono però mi faccio un programma che dico quanti so so 230 iscritti allora più di 230 non verranno a fare la prova allora dimensiono il vettore 230 poi ne verranno 23 vorrà dire che io di questo vettore userò un decimo ma sto tranquillo il mio software non farà mai danni né a se stesso né ad altri ho sovradimensionato la dimensione della ram che vado a utilizzare poco male ovviamente la domanda è pertinente ma se io so metto una variabile che la andrò a istanziare prima di andare a definire il vettore a questo punto mi definirò un vettore della dimensione giusta allora torno a dire se questo vettore è definito nel segmento dati il c proprio non te lo per legge non te lo consente se il vettore è definito nella funzione come variabile locale della funzione il c legalmente non lo vuole che tu lo fai però il compilatore te lo sta facendo fare adesso però si intende che questo stack quando cresce non dovrebbe far male a se stesso o altre variabili definite alla funzione stessa dopo facciamo un esempio dopo facciamo un esempio e ti faccio vedere i danni che potresti provocare lo modifichiamo e facciamo quello che dici te allora vabbè poi il vettore mentre che tu lo definisci se vuoi lo puoi anche inizializzare subito cioè metterci dentro i valori per esempio qui abbiamo int br 4 quindi definisce un vettore che si chiama br di 4 interi poi non mette punto e virgola ma mette direttamente l'operatore di assegnamento e poi dentro parentesi graffe subito ci mette i valori che andranno dentro quel vettore in pratica sta dicendo che ho creato un vettore dove il primo elemento c'è sta 1 il secondo 5 il terzo 2 e il quarto 4 chiusa parentesi graffa punto e virgola questa cosa qui si può fare solo in fase di definizione del vettore non si può fare in un altro momento cioè io non posso scrivere un altro pezzo del codice br4 per capirci si vede br4 uguale parentesi graffa aperta 1 non lo posso fare lo posso fare solo nel momento in cui lo inizialisco lo definisco l'inizializzazione del vettore quella cosa lì si può fare in c e in c++ solo al lato dell'adefizio del vettore dopo che il vettore l'abbiamo definito possiamo accedere ai suoi elementi come ho detto prima e cioè come ho detto prima si dereferenziando il nome del vettore che è un puntatore al primo elemento se no un modo più semplice più comodo di farlo che è quello che dovremmo usare perché effettivamente è più leggibile è semplicemente scrivere il nome dell'array e con dentro le parentesi quadre il numero d'indice dell'elemento che vuoi andare a prendere chiaramente questa è una notazione migliore di quella appuntatore perché è chiaramente più leggibile non si può dire di no perché è indiscutibilmente più leggibile questa ed ecco il punto che è un po' il cuore di tutto quello che stiamo a di oggi C++ non verifica che gli indici dell'array stiano dentro la dimensione definita perché non lo fa per il motivo che dicevo prima perché siccome ci vuole un po' di tempo per farlo e siccome ognuno facesse quello che si pare sta al programmatore verificare che non faccia mai partire un ciclofor che scorre il vettore per 20 elementi se ne aveva definiti solo 10 il compilatore non lo fa sto controllo in C per cui tu hai definito un vettore di 10 me lo scorri dal primo al ventesimo cosa stai facendo come puoi scorrere un vettore di 20 elementi se ne avevi allocati solo 10 stai facendo un virus o che se c'è del tempo alla fine di questo corso vi faccio vedere come si programma un virus con questo sistema lo schema di ragionamento o lo fai perché sei un idiota scusate questo aggettivo un po' la maggior parte delle persone lo fanno per questo secondo motivo dopodiché cosa succede succede che che siccome la maggior parte delle volte quel 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 while perché un for magari te ne accorgi un while a volte che è controllato da sentinella che sta a scorrere il vettore quella cosa che dovrebbe far finire lo scorrimento non accade se non dopo che il vettore è finito ma questa cosa non me ne ero accorto non me ne ero accorto che poteva accadere questa cosa infatti non te ne ero accorto però come dice la legge di Murphy che è provata scientificamente se una cosa spiacevole può accadere accade ma è che accade sempre il corollario di Murphy poi dice che accade sempre è il momento peggiore di queste cose ne parlerete quando farete ingegneria del software perché ci sono dei sistemi per cercare di mettere le pezze ma alla fine la responsabilità è tutta sul programmatore ecco perché il java ha detto togliamo i puntatori così almeno questo problema il programmatore non se lo può creare il c++ non verifica questo se tu vai a leggere un vettore dopo che è finito non so cosa stai leggendo però più di tanto male non lo farai si chiama comunque buffer overflow in lettura se tu invece vai a scrivere un vettore dopo che il vettore è finito a questo punto veramente c'è da mettersi le mani sui capelli perché stai a fare un errore di buffer overflow ma in scrittura cioè tu stai andando a scrivere zone della memoria che non avevi allocato allora le cose sono due o stai andando ad accedere a zone di memoria che non sono consentite al tuo processo perché il sistema operativo quando l'ha mandato in esecuzione gli ha detto tu ti devi muovere in questa zona di memoria e non oltre se vai oltre stai a fare un segment fault segment violation a seconda del sistema operativo e il programma va in crash questo nel caso che tu andando a scrivere un vettore dopo che il vettore è finito o prima che fosse iniziato perché se tu mi fai un ciclo all'indietro potresti arrivare allo zero e poi andare ecco alla fine cioè se se allo zero ci fosse un ostacolo insormontabile ma non c'è te inciampi in attimo ma vai oltre e vai a leggere zone della RAM il primo errore è che tu vai a cedere segment violation una zona della RAM che non ti è consentita ce n'è un altro che è più subdolo qual è? è l'errore di buffer flow che va a scrivere è finito il vettore no? dopo il vettore c'erano altre variabili a, b, c, d e tu andando a scrivere il vettore vai a sterminare queste variabili cioè ci scrivi sopra ci scrivi magari era un char e tu ci vai a scrivere sopra un int poco male in pratica l'int viene scritto su 4 char ma vengono proprio resettate le variabili al valore che ci vai a scrivere quando poi le andrai a rileggere quelle variabili cosa ci trovi? ci trovi dei byte che non c'entrano niente con quello che c'è a parte che l'operazione di per sé non deve essere fatta ma addirittura il tipo potrebbe essere diverso un casino questo è un errore subdolo perché il programma non si interrompe il programma va avanti solo che fa cose del tutto imprevedibili e lì questo è il problema più grave perché cosa è peggio un programma che va in crash perché hai fatto una cavolata o un programma che in crash non ci va ma la cavolata la fa lo stesso è molto peggio quello che in crash non ci va perché ti sta facendo credere che sta facendo certe cose in realtà ne sta facendo altre dopodiché se proprio il comportamento è abnorme te ne accorgi ma se il comportamento non è abnorme tu continui a fedarti di lui ma in realtà non sta facendo quello che doveva fa spero di avervi un po' impressionato perché l'obiettivo come mi è successo già un'altra volta era proprio questo di impressionarvi il compilatore non segnala alcun errore i vettori sono allocati come abbiamo detto in maniera contigua possiamo utilizzare l'operatore size off per andare a vedere la dimensione questa sarebbe una cosa intelligente da fare per capire sempre anche quant'è l'occupazione che stiamo riservando per il nostro il nostro vettore ma comunque l'inizializzazione del vettore l'abbiamo detto come può essere fatta credo che sia tutto chiaro il torniamo al C++ nel C++ a differenza del Pascal che io cito ancora ma non lo farò più con un sentimento nostalgico non consente queste operazioni sui vettori allora supponiamo che io ho due vettori uno di dieci elementi e un altro pure dieci elementi potrei magari avere il piacere di vedere se sono uguali ci metto uguale uguale e dico sono uguali in C non si può fare questo uno maggiore dell'altro non si può fare cioè il vettore non è un tipo dato astratto per cui il linguaggio C ha predefinito degli operatori specifici se vuoi confrontare due vettori per vedere se sono uguali tu devi fare da te devi fare un ciclo che scorre i due vettori e finché sono uguali va avanti quando incontra un elemento in corrispondenza di indice che non è uguale rispondi non è uguale perché il C++ non lo fa questo non lo fa perché vuole lasciare totalmente libertà al programmatore al programmatore di farselo per conto suo non è definito un tipo astratto vettore come era definito nel Pascal e il Pascal prevedeva anche il controllo degli indici in C no perché tanto l'avete capito che in realtà non è altro che un puntatore mascherato il vettore che si può muovere dove se pare purtroppo non si possono fare operazioni aritmetiche cioè io ho due vettori e un terzo vorrei mettere nel terzo automaticamente la somma dei primi due non è che non si può fare non c'è un operatore per farlo te lo devi fare da solo non si può assegnare sull'intero array a parte nel momento della definizione dell'array quello è l'unico momento in cui si può fare l'assegnamento sull'intero array quindi se tu vuoi assegnare un array cioè dargli un valore tu devi fare un ciclo for che te lo scorre tutto e ogni volta dà un valore a ogni elemento e non può questo far arrabbiare lui non può far non può il vettore essere restituito da una funzione perché la funzione non restituisce dieci cose quindici venti una ne restituisce semmai cosa restituirà no semmai cosa può restituire la funzione il puntatore al primo elemento del vettore dopodiché dopo che la funzione te l'ha restituito facci un po' quello che ti pare però ti restituisce il puntatore al primo chiarito questo cioè queste cose che non si possono fare sono cioè noi ci fregiamo ci sfreghiamo le mani perché è questo il lavoro che dobbiamo fare noi fare proprio queste operazioni però ogni volta ce le faremo per quel che ci serve gli esercizi che darò all'esame saranno quasi sui vettori tutti su queste quattro operazioni qua sostanzialmente in un contesto in un altro ma dovrai divertirti a fare il programma per fare la somma di più vettori e cose di questo genere prima di andare a mettere le mani proprio in pasta ci sono c'è un tipo particolare di dato del vettore che è il carattere perché è particolare a parte che è un byte solo no no non è quello facciamo finalmente cioè si chiude il cerchio con un discorso che iniziamo addirittura quando partimmo con l'assembly non so se vi ricordate i messaggi messaggio 1 messaggio 2 messaggio 3 che erano a una certa etichetta c'era una serie di byte che rappresentavano ciascuno un carattere asci e poi c'era un ultimo che era il terminatore l'asci 0 l'asci nulla ecco finalmente vediamo lato c come si gestiscono le stringhe le stringhe sono vettori di caratteri cioè le stringhe sono sequenze di caratteri chiuse dal byte 0000 0000 questo che ho appena detto cioè una sequenza di caratteri asci chiuse dall'asci 0 è una stringa è una costante stringa dove la mettiamo cioè qual è la struttura dati che è fatta apposta per ospitare sta roba il vettore di caratteri il vettore di caratteri è il luogo dove noi andiamo a calare la stringa come si fa in tanti modi cominciamo per esempio mi definisco un vettore stringa 2 di 9 caratteri e subito la inizializzo e gli do invece che quei caratteri fra parentesi graffe come negli esempi successivi scrivo direttamente la stringa dentro una coppia di doppi apici oh qui ci manca il punto e virgola metteteci il punto e virgola dopo il secondo apice praticamente cosa succede che quei caratteri asci vanno a finire dentro il vettore che hai contestualmente allocato in memoria in più allora morti me sono 1 2 3 4 5 6 7 8 perché l'ho fatto di 9 perché che al nono posto cioè l'indice 8 nono posto cioè indice 8 ci va a finire il byte null chi ce lo mette? il compilatore perché ce lo mette? perché ha trovato questa coppia di doppi apici ha capito che quello che c'è dentro è una stringa ha capito che deve terminare col terminatore nullo e fa tutto il compilatore nella stringa 1 nell'esempio successivo non lo fa perché non gli ho dato la stringa fra doppi apici quindi il compilatore ha detto ah devo mettere dentro sto vettore stringa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 caratteri asci ce li mette e poi non avendo io definito qui la dimensione del vettore chiude il vettore che quindi sarà lungo 8 byte ma non sarà stringa 1 una stringa perché non c'è il terminatore nullo è un vettore di 8 byte si vede il compilatore pensa ma forse questo non vuole lavorare con le stringhe vuole lavorare con i byte i singoli caratteri asci per cui non ci metto il terminatore nullo quello non è un messaggio che dovrà essere scritto in output in input letto in input sono 8 byte 8 char non è una stringa di 8 char sono 8 char per esempio potrebbero essere non so le vocali voglio mettermi in una struttura dati vettore le vocali le quali di per sé non sono una parola sono 5 vocali poi ci metto anche quelle accentate non so non sono una parola mi servono in quanto caratteri non in quanto facenti parte di una parola e quindi non alloca una stringa per loro alloca un vettore per ciascuno con un posto per ciascuno di loro l'ultimo esempio qui char stringa 2 fa la stessa cosa con all'ultimo posto il carattere nullo beh stringa 2 è una stringa il primo stringa 2 e il terzo stringa 2 sono perfettamente equivalenti grazie il secondo invece stringa 1 è tutta altra cosa so se è chiaro il concetto queste sono le stringhe proprio a livello primitivo cioè come le tratta il C e anche il C++ dopo il C++ c'è delle classi specifiche per lavorare con le stringhe che vedremo più in là che facilitano il lavoro però è sempre bello è importante andare a vedere proprio a basso livello come vengono gestiti questi concetti ed ecco il primo esercizio che c'è il primo esempio concreto che vorrevo farvi vedere oggi ok allora supponiamo di definire nel segmento dati come variabile globale cosa che non si dovrebbe fare perché normalmente è sempre meglio mettere le variabili con lo scope più piccolo possibile primo perché non si va a occupare identificatori che potrebbero essere importanti in altre parti del programma secondo perché se lo scope è più piccolo possibile e soprattutto in vista dell'ottimizzazione del compilatore il compilatore li gestisce meglio se tu li metti sullo stack rispetto sul segmento dati se sono variabili globali devi per forza mettere sul segmento dati quindi prima del main adesso io faccio questo esempio metto prima del main definisco una string un vettore di nove caratteri la chiamo stringa vabbè insomma e poi mi definisco quattro variabili tipo char dove saranno allocati in memoria queste subito dopo per come l'ho scritto teniamo la mente poi un po' di commenti va poi vabbè commentiamo tutto pure questo per il momento allora scrivi scrivi qualcosa poi ecco non so se si vede vado a usare l'operatore di estrazione per estrarre dal canale di input cin e mettere dentro il vettore quello che sta sul canale di input sul buffer di input si apure così buffer questo non prende di spazi l'operatore sto per far vedere sei un cavallo che corre proprio questo l'esercizio è proprio questo vado a vedere cosa è scritto e poi mando in output guardate che sono cose complicatelle quelle che stanno accadendo a parlare si fa facile però questo operatore qui si vede l'evidentazione sul progettore si vede questo operatore qui l'estrattore vede che ha a destra il nome di un vettore il nome di un vettore cos'è e cos'è il nome di un vettore è un puntatore vede che a destra c'è un puntatore a che a carattere perché ora è un vettore di caratteri allora partirà una funzione che non c'è niente a che vedere con quella che partiva quando a destra c'aveva un int o un float che è un'altra ancora totalmente diverso ora ne parte un'altra ancora di funzione e che questa funzione che farà non è scontato bisogna conoscere il c in questo caso il c++ per sapere cosa fa bisogna leggere il libro e adesso lo vediamo cosa fa e lo spiego lo vediamo con l'esempio direttamente qua vabbè manda in output quella sequenza di byte di asci qua lo stesso operatore a destra c'ha di nuovo un puntatore a carattere che farà bisogna andare a studiare per vedere cosa farà fa quello che i programmatori hanno detto di fare secondo lo standard del c++ adesso lo vediamo cosa farà questo lo sappiamo le variabili questo lo commentiamo perché le variabili non ce le abbiamo quelle quattro rigore di codice è chiaro? ora ci concentriamo su questo operatore qui cosa fa quando a destra c'ha un vettore di caratteri e quest'altro operatore qui cosa fa quando a destra c'ha un vettore di caratteri poi cominciamo a decommentare e andiamo più complesso all'esempio intanto partiamo da questo che è banale andiamo a compilare speriamo di non aver commesso errori adesso lo facciamo partire allora ricordiamoci che il vettore è di nove caratteri caratteri scrivi qualcosa adesso quello che io ti vado a scrivere scrivo il mio nome mi fermo quattro caratteri soli mi fermo che succederà? succederà che l'operatore quello estrattore mi va a prendere la maiuscola la L la D la O e poi mi va a scrivere sul vettore stringa e basta che farà dell'invio cioè del line feed lo prende? non lo prende? lo prende o no? non lo prende e quando andrà a scrivere sul vettore prima che parte voglio commentare un attimo quando andrà a scrivere sul vettore scriverà A L D O e basta secondo voi? cioè dobbiamo immaginare quello che hanno pensato prima di noi i programmatori che hanno fatto capito? questo è un esercizio psicologico che avranno pensato i programmatori prima di noi? scriviamo solo O A L D O o ci scriviamo pure un'altra cosa? secondo voi? ci fermiamo qui o scriviamo un'altra cosa? allora i programmatori hanno pensato che forse è meglio metterci anche il byte null perché probabilmente sto programmatore avendo fatto questa cosa avendo definito un vettore di caratteri avendo predisposto che si vada a leggere il vettore di caratteri dall'input forse voleva metterci dentro una stringa allora ci va a mettere il carattere determinazione di stringa da che lo capiamo? lo capiamo e anche lo avvaloriamo come concetto da un'altra cosa dall'altro operatore quello l'inseritore effettivamente è lui è lui che ci deve guidare perché l'inseritore adesso che ha un vettore stringa un vettore di caratteri a destra è chiaro che lui va a prendere i dati dal vettore di caratteri per mandarli sul flusso di output è chiaro quindi partirà dal primo come faceva il programma in assembly che abbiamo visto quella volta partiva dal primo quello all'etichetta messaggio 1 e c'era la primo poi andava oltre e andava oltre finché trovava un carattere che poteva mandare sul flusso di input anzi va sempre oltre perché tanto in teoria tutto si può mandare sul flusso di output meno cioè terminerà di andare oltre quando trova cosa il byte null come facerà il programma in assembly cioè in pratica cerco di essere più chiaro questo operatore qui che si chiama inseritore che mi va a prendere qualche cosa dal suo argomento alla destra e me lo manda byte per byte sul flusso di output che si chiama channel of output me lo va a prendere da un vettore di caratteri mi prende il primo poi mi va quello oltre e così via fino a quando dice fino a quando è finito il vettore ma i vettori non esistono in C non esistono esiste solo il nome del vettore che è un puntatore al primo elemento e quindi effettivamente questa funzione qui prende quel puntatore che si chiama stringa e che alla prima volta lo dei referenzi e va a prendere stringa a zero poi lo aumenta di uno e mi va a prendere stringa di uno e così via e mi fa partire un ciclo proprio se voi andate a vedere come è implementato quello lì è un ciclo un while finirà di andare verso destra quando dereferenziando stringa aumentato di tot quando che lo va a dereferenziare si accorge che quel valore lì puntato da stringa più tot è il byte zero quando si accorge che il byte zero smette di fare sto lavoro e restituisce l'indirizzo di count non si c'entra niente come se non avessi detto smette di fare sto lavoro e se il byte non lo incontra non lo fa la domanda è stata farà un controllo detto in maniera anche molto molto no questo perché è quello che fa essendosi accorto sto parlando di è il comportamento che fa questo operatore quando vede che alla sua destra c'è un vettore di caratteri ovviamente stringa non potrebbe essere un vettore di interi sarebbe totalmente diverso il comportamento ma lo vediamo magari un altro esempio cioè è ottimizzato questo sistema per lavorare con i vettori di caratteri con le stringhe il problema è che se torniamo all'esempio se come si chiama l'estrattore quello che lavorava col CIN quando che andava a mettere ALDO sul vettore di caratteri non avesse messo anche il byte zero quell'altro l'inseritore non avrebbe saputo quando fermarsi a leggere mi dispiace tanto non essere chiaro guarda mi dispiace enormemente a me è chiaro però non riesco a trasmetterlo allora e stiamo a fare proprio questo dunque adesso facciamo un'altra prova lo rilanciamo lo stesso però io vado a scrivere dunque calma un attimo Aldo Spazio Franco sono in tutto dieci asci quindi sarebbero più di quanti ce ne possono entrare su quel vettore più c'è un'altra cosa c'è il carattere Spazio in mezzo cosa succede di nuovo questa domanda non c'è una risposta matematica bisogna capire come hanno ragionato quelli prima di noi ve l'aspettavate? allora che cosa è successo? che in lettura dall'input spero che tutto questo casino sia perché state commentando sta cosa qualcuno lo vuole commentare al microfono? cosa è successo? è successo che in lettura quando che l'operatore estrattore ha trovato sul buffer di input lo spazio ha smesso di legge e che cosa ha scritto sul vettore? ha scritto A, L, D, O e ovviamente è sicuro al 100% che ci ha messo anche il byte nullo dopo la O perché sono sicuro? perché quando faccio il contrario cioè lo vado a leggere il vettore con l'altro operatore si ferma vi assicuro che se non c'è il byte nullo l'altro operatore l'inseritore va all'infinito ovviamente va in segmented evaluation ve lo faccio vedere no? allora qui si è fermato perché ha incontrato ha incontrato lo spazio e che ne è stato di Franco? nel buffer di input è rimasto Franco il puntatore al buffer di input è puntato sulla F maiuscola lo spazio è stato schippato e il puntatore sta sulla F maiuscola se ci fosse una successiva lettura nel programma dall'input la prima che verrebbe letta sarebbe la F maiuscola mo lo rilanciamo e scriviamo Aldo Franco è tutto attaccato sono in tutto 10 ci stanno sul vettore di 9? non solo non ci stanno ma non ci sarebbe comunque neanche spazio per mettere il byte null così ce la fa ancora facciamolo così ha scritto Aldo Franco ma se io scrivo come ho detto prima e adesso bisogna che mi dire cosa succede va in buffer overflow questo non c'è ombra di dubbio perché andrà a scrivere 11 byte 10 per Aldo Franco più l'undicesimo per il byte null ma dove li scrive? su un vettore di 9 e quindi il decimo e l'undicesimo staranno fuori dove? non lo sappiamo cioè per capire dovremmo andare a vedere bene il codice quello sì e poi sapere il compilatore come si comporta quando va a allocare spazio in memoria non sta scritto dentro il manuale del C questo il manuale del C ti dice non lo devi fare cosa succede dipende è come un reato cosa succede quando tu compi un reato dipende a dove lo compi quando lo compi in che paese lo compi eccetera la legge non prevede cosa succede la legge dice solo che non lo devi fare siccome però noi siamo ingegneri vogliamo vedere cosa succede in questo paese con questo compilatore che abbiamo in questo momento su questa macchina mia quindi io adesso premo invio vi aspettate qualcosa? siamo nell'ambito del illegale adesso siamo nell'illegale vediamo come ha finito che cosa vi aspettate voi? vado tutto bene? tutto tranquillo? non è andato in crash è un bene o un male che non è andato in crash? è un male eppure ha fatto quello che doveva fare ma è un male perché? perché per fare questo che ha fatto qualche danno l'ha fatto lui ha scritto la O di Franco e il byte nullo sicuro che l'ha scritto perché adesso quando l'ho mandato in stampa si è fermato per cui ha trovato il byte nullo ma l'ha scritto in una zona della RAM che io non avevo predisposto a questo punto così tutto sommato se il programma era quello non ha fatto danni ma se il programma era quest'altro ecco adesso andiamo a definire quattro variabili di tipo char dopo il vettore e per non far arrabbiare il vettore per dare un senso all'esercizio le andiamo anche a valorizzare queste variabili dico che sono tutte e quattro et cioè gli do un valore a tutte e quattro perché ci devo fare qualche cosa poi faccio partire il medesimo programma però dopo che mi ha stampato la stringa quello che ho scritto in input in input vado anche a vedere il valore delle variabili A B C e D non lo so cosa succederà salvo tutto compilo se non gli va bene va bene lancio scrive qualcosa se scrivo Aldo Franco se scrivo Aldo è scritto Aldo le variabili A B C E D valgono rispettivamente et 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 non è successo niente perché non ho fatto il buffer overflow se lo rilancio se lo rilancio e scrivo Aldo Franco Dragoni così sto tranquillo che resetto tutto adesso quello che stiamo per vedere non è scritto nel libro non ci può essere un libro che scrive quello che sta per accadere su nessun libro può starci scritto perché non si può fare quello che stiamo per fare noi adesso chiaro cosa cosa succederà dipende dal compilatore GCC nella versione 4 punto non so che che sto usando in questo momento su questa macchina qui addirittura e addirittura ha lanciato con quelle opzioni con cui l'ho lanciato il compilatore perché se lo lancio con altre opzioni magari fa altre cose ho confuso bene le idee perché se le ho confuse come al solito era proprio l'obiettivo mio lancio però si accettano previsioni la prima che mi è arrivata al solito qui dalle prime file io ti ringrazio lo dico con simpatia e con stima mi pare molto attendibile come ognuno si è fatto la propria idea importante che ognuno abbia la propria idea vediamo cosa succede Aldo Franco Dragoni l'ha scritto e dopo la I di Dragoni ci ha messo pure il terminatore nullo lo so per certo perché quando l'ho mandato in output non mi ha dato in segment violation quindi si è fermato dopo la I ma come dicevo prima il fatto che abbia scritto tutto quanto Aldo Franco Dragoni è un bene o un male adesso è chiaro che è un male perché le variabili A, B, C e D sono state sterminate dovevano valere ETH invece valgono O di maiuscolo R da potrei cercare anche di risalire a come si è comportato il compilatore vedendo adesso è chiaro che DRA è l'iniziale di Dragoni e O è la fine di Franco cioè ODRA l'ha scritto su quelle quattro variabili quindi quelle quattro variabili stavano effettivamente dopo e dopo è andato anche oltre cioè GONI l'ha scritto anche addirittura oltre quelle quattro variabili allora la curiosità è tanta posso lasciarle inizializzate così stiamo a far proprio vabbè fammi un'altra cosa dai adesso le inizializziamo sono interi a 22 vabbè comunque però questa è una prova forse divertente però cosa è successo per capire quello che è successo bisogna ricordarsi che le variabili intere sono su 4 byte e quindi O D R ed A hanno resettato la prima di queste quattro e se le andiamo a interpretare quei quattro asci messi lì come un numero sarebbe il numero 1 miliardo 852 milioni non so che poi G.O.N.I hanno resettato la seconda che non so perché mi dà 105 bisogna ragionarci le altre sono rimaste non toccate vuoi che scrivo cosa cos'è BR scusa e come faccio a farlo dalla tastiera devo uscire dal terminale e fare cosa a carattere ABCD Chad ABCD poi a posto di l'opera come di prima compilato e inseguito alto franco DR ah DR e che ti aspetti scusa che ci dovrebbe stare non ho capito il dubbio per cui non riesco ad agganciarmi no no lo stampa no no lo slash zero non avevo capito la domanda non avevo sentito proprio lo slash zero dice al lo slash zero dice a questo operatore qui che deve smettere di lavorare cioè lui non viene stampato lo slash zero non viene mai stampato che credete che ho finito no prossimo esperimento il prossimo esperimento è definire la stringa dentro il main perché dal punto di vista del linguaggio non cambia niente esattamente lo stesso esperimento cioè non è cambiato nulla abbiamo solo definito anche queste va no prima le lasciamo fuori e poi le mettiamo dentro va allora la il 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 vettore l'abbiamo messo dentro le variabili le abbiamo lasciate fuori quindi stanno in zone della saranno in zone della ram totalmente diverse quindi se io ho il buffer overflow su stringa non andrà solo a scrivere quelle lì per convincermene faccio adesso la prova ecco qui ha scritto Aldofranco Dragoni le variabili bc continuano a valere quello che valevano questo non c'era ombra di dubbio no? stanno in parti diverse della ram ma cosa succede se le metto dentro allora quello un dito una domanda chi non c'è il computer sotto mano può rispondere ovviamente che succederà che succede? allora la cosa più ragionevole che ho sentito l'unica veramente che succede quello che succedeva prima tutto ciò è molto ragionevole quello che sta per succedere non sta scritto in nessun libro solito perché perché non sta scritto nessun libro perché è vietato fare quello che sto facendo io scusate no questo no quello che farò adesso quando lo lancio è vietato il codice questo codice non sarebbe vietato anzi questo codice è preferibile rispetto a quello di prima perché alle variabili è meglio dare lo scopo più piccolo possibile questo da manuale da manuale della programmazione e allora se io adesso l'ho compilato se lo lancio se scrivo Aldo Aldo 4 non succede proprio niente di particolare se scrivo al solito Aldo Franco Dragoni dovrebbe succedere quello che succedeva prima perché le variabili stanno dopo boh non lo so non sta scritto sul c penso io che le variabili stiano dopo sempre sullo stack ma staranno dopo allora questo non sarebbe accaduto fino a 5 anni fa che diavolo sta succedendo a me invece no quindi stiamo facendo qui non era il codice che era sbagliato che cosa è sbagliato è sbagliato il fatto che io gli ho dato tutto quell'input da lettura ma ve lo vedete che per rendere un codice esatto sbagliato ci vuole la collaborazione di chi quel codice lo usa poi è questo che il Java non ti consente cioè e sono io che ho scritto Aldo Franco Dragoni e cioè ho scritto da input una sequenza di caratteri più lunga di 9 che ha fatto sì che quel codice sia sbagliato ma io che ne sapevo come era fatto il codice io sono utente non sono programmatore il programmatore mi doveva mettere scrivi al massimo 9 caratteri a questo punto io scrivendo nei 15 quando ne ho scritto ho violato questa cosa ma non so se capite il problema allora vi posso anticipare che dalla C di Franco fino alla I io potrei avere inoculato un virus in quel software cioè non in quel software avrei potuto inoculare un virus sulla RAM sfruttando questa debolezza del C che non mi va a controllare gli indirizzi dei vettori N O D R A G O N I sono codice ASCI che è andata a finire sulla RAM in un posto dove non ci doveva andare a finire niente questo è sicuro perché siano state salvate A, B, C e D in questo compilatore non è chiaro ma ci possiamo arrivare adesso vi faccio vedere un'altra stranezza che è la domanda che vi avevi fatto tu un'ora fa e cioè facciamo un'altra cosa che il C vieta cioè andiamo a definire la dimensione di un vettore come una variabile l'ho messo la variabile X tipo unsigned per non farla proprio porca perché se lo mettevo int vuol dire che potremmo addirittura prendere indici negativi così è un po' un po' più almeno solo positivo può essere può andare da 0 a 4 miliardi a 4 giga l'indice di sto vettore stringa una stringa di 4 giga caratteri potenzialmente potrebbe essere non sappiamo quanto vale X e attenzione non solo non sappiamo quanto vale ma non sappiamo neanche cioè siamo sicuri guardando sto codice che non lo sapremo proprio nel senso che il vettore verrà allogato quando X ancora non è stata valorizzata al 100% non c'è nessuna istruzione che dia un valore a X su questo codice si può fare questo no c'è scritto sul libro che è vietato farlo in questo senso non si può fare non si può nel senso che è vietato potere nel senso di legale è vietato perché è vietato è perché chiaramente se uno va a fare queste cose non si sa cosa succederà poi cioè io devo definire un vettore che non so quanti posti è come faccio allocare il compilatore dice come faccio allocare allora guardate quanto è sporca veramente quelle cose che stiamo a parlare questo è vietato e se lo salvo e vado a compilare e vi aspettate errore compilazione fallita e se andiamo a leggere il motivo per cui è fallita allora errore error array bound is not an integer constant before parentesi graffa chiusa parentesi quadra chiusa cioè il bound cioè il limite dell'array la dimensione dell'array deve essere una costante intera ah fratto non l'avevo detto ma ovviamente non può essere in float la dimensione ma questo sto parlando a persone intelligenti non me l'ha compilato ho finalmente un comportamento giusto non si può fa non lo devi compilare chiaro? giusto? adesso seguitemi faccio la stessa cosa dentro il main si può fare no si può nel senso illegale no c'è una qualche speranza che il codice funzioni perché io ho valorizzato la x prima di usarla come dimensione dell'array no c'è la definizione di x e poi subito la uso non è stata valorizzata x non è che ho scritto x uguale questo almeno sarebbe un po' meglio questo c'ha senso questo non c'ha senso perché il compilatore dovrebbe dire e quanto spazio ha luogo per questo? ma x non è valorizzata è casuale dici tu è casuale ma dopo quando quando la vado a usare qui c'è stiamo nel campo dell'ipotetico capito? è chiaro che la programmazione non può essere ipotetica perché se la programmazione è ipotetica i risultati della programmazione saranno ipotetici e quindi quando questa qui sarà utilizzata dentro una macchina che ti deve andare a calcolare il il tasso di 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 sostanze nocive che c'è nel sangue e ti dice una cosa invece che penaltra nel caso compilatore se ci mettiamo il sizeoff possiamo vedere ma sizeoff no perché sizeoff su stringa su stringa sizeoff sì possiamo vedere quanto è grande sì possiamo vedere quanto è grande è interessante questa cosa la potremmo fare allora per vedere quello che succede comunque che cosa dovrebbe fare il compilatore almeno questo diciamolo quello che ha fatto prima dovrebbe darci errore compilazione terminata correttamente ti faccio notare che stai inizializzando un vettore stai dimensionando un vettore con una variabile che non è definita ma te lo faccio fare qui questa è una provocazione capito perché a questo punto io a questo punto me lo vado a usare sto codice l'ha compilato lo uso giusto? prima scrivo Aldo ma a questo punto Aldo Franco Aldo Franco Dragoni è tutto uguale perché non so quanto è grande stringa non c'è più il 9 mi fermo non lo so non so chi scrivere letteralmente non so cosa scrivere che diavolo ha fatto grazie a tutti il vostro collega qui davanti ma ha chiesto perché come posso risponderti sulla base di che cosa dovrei risponderti congetture dovrei mettermi non solo nell'elemente di chi ha pensato il C ma anche di chi ha implementato sto compilatore non lo so non lo so non lo so e non lo voglio sapere perché non c'entrano queste quattro variabili le tolgo da qui le metto qui che funziona lo stesso non c'entrano niente quelle quattro variabili chiaramente magari adesso saranno quelle rimarranno però mi lasse va bene non tutto ha una risposta adesso questo non ha una risposta perché stiamo nel campo delle cose che non si devono fare e quindi non ha una risposta ha una risposta tecnica che è legata alla struttura di questo compilatore e di questa macchina ok adesso voi vi siete stancati ma io vi devo dare un'altra clamorosa info importante che fa parte del programma di oggi che è questa qua allora io posso fare un vettore di char posso fare un vettore di interi posso fare un vettore di float non l'ho fatto l'esempio ma lo potevo fare posso fare un vettore di tutto anche un vettore di vettori supponiamo di avere un vettore di 9 interi di 10 interi 10 facciamo 10 come si fa a definire un vettore di 10 interi int nome del vettore fra parentesi quadre 10 punto e virgola ce l'ho se mi faccio un vettore di 10 vettori di 10 interi lo posso fare si lo posso fare domande retoriche che cosa vado a fare una matrice in pratica sto definendo la struttura di una matrice in vettore la riga ne faccio 10 ho 10 per 10 una matrice di 100 elementi posso fare un vettore di vettore di vettori si avrò una matrice cubica un vettore di vettore di vettore di vettori c'è una matrice spazio temporale che gli sarebbe piaciuta ad Einstein non c'è limite al numero di dimensioni sempre hardware permettendo quello sempre e come si fa a quel punto ad andare a prendere un elemento bisogna specificare dentro due coppie di parentesi graffe sia l'indice di riga che sarebbe l'indice del vettore interno ho detto graffe perché ho detto una cavolata quadre mi confondo sempre e nel secondo l'indice di colonna è detto così è anche banale quello che è un po' meno banale bisogna che mi state ascoltare però oggi è un po' pesante però è importante perché l'array multidimensionale per esempio che cosa ci si fa con questo dovinate un po' tantissime cose viene in mente qualcosa un utilizzo di questa struttura le immagini tutte le elaborazioni delle immagini sono basate su questa struttura data di qui poi in realtà noi oggi usiamo le funzioni di libreria già fatte ma loro sono state fatte così per esempio come si fa a definire una tabella di 2 per 3 interi la possiamo definire così poi la possiamo anche inizializzare o così cioè mettendo 51 52 53 dentro una coppia di parentesi graffe che starebbero per la prima riga virgola poi 54 55 56 dentro una coppia di parentesi graffe che sarebbero per la seconda riga tutto dentro parentesi graffe questo sarebbe corretto ma in realtà siccome il Citefa fa tutto perché è pratico ti dice ok ma per me li puoi pure mettere tutti insieme 51 52 53 54 55 56 è allo stesso livello sarà la stessa cosa le due righe fanno la stessa cosa se poi invece voglio andare a prendere un elemento della tabella per esempio quello di indice 1 0 e farci qualche cosa per esempio assegnarla di x si può fare così chiamo il singolo elemento dell'array di array dando specificando l'indice di riga e l'indice di colonna più semplice di così a parole perché poi le cose cominciano a diventare delicate e l'ultimo concetto che do è questo quando andiamo a passare questi vettori alle funzioni andiamo direttamente sul campo ancora e andiamo a vedere allora chi deve andare via vada però io devo finire questo argomento e cerco di finirlo allora stiamo parlando del passaggio di vettori a funzioni è l'ultimo è l'ultimo argomento di oggi lo vediamo per un vettore monodimensionale e poi lo vediamo per un vettore bidimensionale e poi ci salutiamo c'ho una ventina di minuti al massimo vado allora io adesso mi sono fatto un una funzione che l'ho chiamata somma che gli passo un vettore per come l'ho scritto adesso un po' furbescamente se ho scritto 4 che sarebbe di 4 interi e poi gli passo un altro parametro chissà perché poi sarà chiaro fra un attimo che è di tipo intero che fa questa funzione mi deve fare la somma di tutti gli elementi del vettore e me la deve restituire in output la userò nel mio programma ogni volta che ho bisogno di calcolare la somma degli elementi di un vettore riutilizzo questo pezzo di codice gli passerò un vettore lei mi dovrà calcolare la somma di tutti gli elementi del vettore e mi dovrà restituirlo semplice ecco voi dovrete fare esercizi solo così sui vettori dovrete fare solo funzioni per lavorare sui vettori quindi state vedendo proprio tipico esercizio d'esame come si fa a fare questo mi scoro il vettore dall'elemento di indice 0 all'elemento di indice n-1 dove n sarebbe la dimensione del vettore e poi avendo inizializzato a 0 una variabile accumulatore la vado a usare come abbiamo visto ieri per fare la somma di tutti gli elementi banale infatti non è l'algoritmo il punto qua il punto è come si fa a passare un vettore a una funzione questo è un concetto importantissimo per esempio io ho due vettori nel main che li chiamo attuale 1 di 5 elementi 0 2 4 6 8 e poi attuale 2 di 3 elementi 1 3 5 adesso chiamo la funzione somma e gli passo attuale 1 di 5 elementi e attuale 2 di 3 elementi e lui mi dovrà calcolare la somma dei primi 5 poi faccio un'altra cosa dopo che mi serve fare un'altra cosa vado a compilare e il compilatore si incavola perché mi dice tante cose ma il motivo per cui non gli piace tutta sta storia è che io ho messo qui all'atto della chiamata la dimensione del vettore all'atto della chiamata io di una funzione a cui passo un vettore in realtà non gli devo passare il vettore con la sua dimensione ma gli devo passare solo il nome del vettore perché questa è la risposta giusta a me mi sarebbe piaciuto che avessi detto perché i vettori non esistono perché esiste solo il nome del vettore il nome del vettore esiste è un puntatore il vettore in quanto tale non esiste non è stato è stato allocato lì ma poi abbiamo visto quanto è confusa sta allocazione quello che esiste è il nome del vettore che è un puntatore al primo elemento del vettore alla funzione quindi gli si passa il nome del vettore non la dimensione quindi se la funzione dovrà andare a lavorare su una dimensione per esempio sapere quanto è grande questo parametro la dimensione del vettore lo devi passare a parte in C e sarebbe il ruolo di questo n che ho messo qui quindi ricordatevi quando passano due cose la prima è questa che è la meno importante che quando che si passa a una funzione un vettore gli si deve passare il nome del vettore e poi la dimensione perché il vettore non esiste la dimensione lui non la sa il compilatore tu la sai il programmatore la dimensione quindi nella definizione della funzione la dimensione del vettore non va indicata cosa che risulta anche comoda perché così io gli posso passare un vettore lungo 10 o un vettore lungo 20 o un vettore lungo 30 la funzione sempre la stessa sarà ma la cosa più importante di tutte è che io gli sto proprio passando quel vettore questo non è un passaggio cioè non è che accade che la funzione si fa un vettore copia di quello che c'è nel main come accade nel passaggio per valore perché il nome di un vettore è un puntatore e questo qui attuale che è il nome proprio del vettore quindi io gli sto passando proprio l'indirizzo di quel vettore la funzione andrà a lavorare proprio col vettore che io gli passo e questo è il concetto più importante di oggi anche se lo sto dando alla fine che quando che si passa un vettore a una funzione gli si passa al lato della chiamata il nome del vettore e quindi gli si passa il valore che c'è dentro in quel momento a quel puntatore perché è un passaggio per valore in quel momento il nome di un vettore sta puntando il primo elemento al vettore quindi c'è dentro l'indirizzo del primo elemento quindi tu stai passando l'indirizzo di quel vettore a questo oggetto qui che infatti è un puntatore al primo indirizzo di un vettore ma se tu gli passi proprio quell'indirizzo proprio quello sarà e quindi le funzioni che lavorano sui vettori lavorano proprio sui vettori che voi gli passate non su una copia se fosse int quello sarebbe un parametro formale di tipo intero che prenderebbe un intero sarebbe una copia di quello che gli passi ma per il fatto che qui ci metti queste parentesi quadre quello invece è un puntatore prende come valore il valore dell'indirizzo che gli passi e quindi punterà il vettore che tu gli stai passando allora questa stessa cosa che vedete qui io la posso anche scrivere così guardate che la trasformo e sarà tutto chiaro la trasformo sotto i vostri occhi adesso l'ho fatto diventare un puntatore intero chiaramente qui devo cambiare e devo fare così ecco questa funzione che ho scritta adesso viene compilata e dal punto di vista macchina è esattamente la stessa di prima è la stessa funzione solo che la rimetto come stava prima perché è un po' più chiarina sto quasi arrivando alla fine adesso vediamo come lavora sta funzione vediamo come lavora scrive 29,0 perché scrive 29,0 perché gli ho chiesto di stampare in output la somma dei primi 5 elementi del vettore attuale 1 che sommano 20 dei primi 3 elementi del vettore attuale 2 che somma 9 e poi mi ha stampato l'elemento il valore dell'elemento di indice 3 del vettore attuale 2 e qual è? non c'è e mi ha stampato 0 da da beh buffer overflow pure questo in lettura un po' meno grave via un po' meno grave allora a questo punto facciamo così li togliamo da qui rifiamo le stesse cose di prima li mettiamo lì e facciamo la stessa cosa di nuovo un buffer overflow in lettura però questa volta è veramente imprevedibile il numero che mi ha dato però che succede se io per esempio posso mettere 4 qui che succede se metto 4 lì? somma i primi 4 e non i primi 5 e cosa succede se metto 4 qui? grande stiamo andando a mietere dove non abbiamo seminato cosa mieteremo non si sa ma un indizio ce l'abbiamo dalla volta di prima innanzitutto vedete che il vettore che il numero è totalmente cambiato come è mai totalmente cambiato? perché questo è un altro processo ho compilato ho compilato di nuovo parte quello ma ho fatto ripartire un altro processo con lo stesso codice ma è un altro processo il sistema operativo l'ha messo in un'altra parte della RAM però c'è una cosa interessante che la somma dei primi 4 mi ha dato questo numero però ora bisogna fare un po' di calcoli invece quell'altro ma la differenza quant'è? 9 e perché la differenza è 9? bravi bravi quanto siete bravi quanto siete bravi perché la somma di questi 3 è 9 ha fatto la somma questo qui ha fatto la somma di quei 3 che è 9 più ci ha messo il quarto che non esiste che casualmente c'è il valore negativo facendo la somma aritmetica perché sono interi mi ha ridato quel risultato l'ultimo guardate sto andando veloce l'ultimo proprio importante è questo qui adesso faccio la stessa cosa magari vado veloce perché il tempo è scaduto tanto ci avete spero stavolta la registrazione faccio la stessa cosa questa volta passando un vettore di vettori allora trattandosi di un vettore di vettori vado a fare la somma di tutta la matrice per farlo ci vuole un for dentro un for in questo momento sto andando molto veloce ma voi avete la registrazione ci avete slide sarà chiaro chiaro ci vuole un for dentro un for perché un for scorre le righe e un for le colonne e un for scorre le righe insomma come volete voi con indici diversi complessità dell'algoritmo quadratica quadrato invece il punto è questo qui io mi sono fatto la funzione per fare la somma dei valori di una matrice come prima gli passo la matrice dandogli solo il nome della matrice tutto sarebbe come prima il compilatore si incazza si incavola e mi dice un sacco di cose soprattutto non gli piace ve lo dico subito in maniera molto veloce perché si sta a chiudere anche la settimana non ci vorrei tornare la settimana prossima su questo non gli ho dato la specifica di quanto è grande la riga non funziona sta cosa perché devo specificare quanto è grande io non mi ricordo quanto è la grande 4 gli devo specificare quanto è grande la riga perché e questo è l'ultimo concetto e poi finiamo l'avrei voluto dire meglio però è andata così che diavolo sto fa scusate aiuto aiuto devo andare veloce invece ci sto mettendo più tempo ancora allora perché gli devo passare la seconda dimensione dove sta sta parentesi tonda perché gli devo passare la seconda dimensione della matrice cazzo non riesco a fare in un minuto ci volevano due minuti perché non ci riesco perché non si può non passare la seconda dimensione la seconda dimensione della matrice perché questi pure puntatori sono ma di due tipi diversi uno è un puntatore a interi quello dentro quello delle righe è un vettore di interi quindi è un puntatore interi che scorre per riga l'altro è un puntatore a puntatore di interi non è un puntatore interi perché l'altro scorre sui puntatori a puntatore di interi sui puntatori a puntatore di interi è giusto così ma per il puntatore esterno quello che è puntatore a puntatore di interi quando aumenta di uno lui deve saltare alla riga dopo della matrice quindi deve sapere quanto è lunga la riga sa che la riga è fatta di interi ma non sa di quanti interi è fatta quindi io gli devo scrivere che la riga è fatta di interi e che è fatta di quattro interi e quando aumenterà di uno quel puntatore di riga mi andrà a puntare il primo elemento della riga successiva perché aumenterà non di quattro ma di sedici di quattro per quattro in questo caso non ci sarebbe bisogno lo puoi prendere forse da lì ci devo ragionare un attimo mostra in chiusura però questo ti serve per fare la somma parziale però ok ok mi fai una domanda che mi fa un attimo pensare in questo momento non vorrei dire una stupidaggine al volo ne parliamo magari a fine lezione così c'è un attimo più di tranquillità per ragionarci con calma era l'ultimo concetto che volevo darvi la lezione di oggi e quindi della settimana finisce e vi saluto grazie 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 a tutti grazie a tutti